Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale La vicenda giudiziaria dell'Isippo, oggi a Pesaro, ha deposto il direttore del Getty Museum Tutto è stato fatto in buona fede, ha detto l'udienza, giornata al 15 dicembre Scontro tra auto e scooter, due giovani di 17 anni feriti in modo lieve In arrivo 4.000 tonnellate di roccia serviranno per le scogliere in zona via del Belsaglio Il prossimo affano sarà un fine settimana dedicato agli appassionati di volatili Ce ne saranno tanti, alcuni anche molto rari Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV Sul canale 17 c'è l'informazione locale con Occhio alla Notizia E cominciamo dalla cronaca e cominciamo con il raccontarvi di questa vasta operazione E' ancora una volta il parco Miralfiore, il teatro dello spaccio pesarese Nonostante lo sforzo delle forze dell'ordine di presidiare e monitorizzare le attività all'interno del parco Sacche di spaccio ancora si verificano a diverse ore del giorno E' del pomeriggio di ieri l'arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Pesaro Coordinati dal Maggiore Gentili di un ganese di 30 anni regolare sul territorio italiano Colto in flagranza di reato dai militari mentre cedeva dello stupefacente a un ragazzo del posto Durante l'arresto gli sono stati trovati addosso 6 grammi di marijuana e 200 euro in contanti Frutto probabilmente dell'attività di spaccio Con unità cinofile antidroga il parco però è stato setacciato in ogni angolo E sono stati così scoperti diversi nascondigli tra la vegetazione, i rami o crepe nei muri In cui veniva occultata la droga e dove sono stati recuperati così ulteriori 5 grammi di stupefacente Questo arresto dei carabinieri fa parte però di un'operazione più a largo raggio del comando regionale Che ha riguardato oltre a Pesaro anche i comuni di Vallefoglia, Monte Labate e Gabicemare Nella quale sono state identificate 220 persone di cui 95 stranieri e controllati 80 veicoli Non c'è nessuna certezza che il bronzo dell'atleta vittorioso del IV secolo a.C. sia opera di Lisippo Sicuramente di origine greca ma nessuna prova sull'autore E ancora meno certezze che sia stato pescato in acqua italiana davanti a Fano o Senigallia Quello che è certo è l'acquisto per quasi 4 milioni di dollari nel 1977 Da parte della fondazione Getty Museum è avvenuto con tutti i titoli legali Dopo sentenze di assoluzione in Italia, pareri legali di famosi studi italiani E autorizzazioni della magistratura di Monaco dove si trovava la scultura Per cui è stato fatto tutto in buona fede con tutti i documenti possibili Ci manca solo l'originale della compravendita tra i venditori italiani e il collezionista tedesco Che poi ce l'ha venduto Questo è il contenuto delle dichiarazioni rese oggi a Pesaro dal direttore del Paul Getty Trust Stephen Clark Il giudice Gasparini lo ha ascoltato mentre ha ripercorso le fasi lunghe e altalenanti Dell'acquisto del bronzo attribuito all'Isippo attraverso le lettere e le agende di Getty Senior Rimarcando la perfetta buona fede dell'acquisto per un museo che, ha detto ancora Clark Non ha mai esitato a restituire ciò che è risultato essere, con prove inoppugnabili, patrimonio di un paese L'udienza è stata aggiornata il 15 dicembre Dovrà essere terminata la ringa, poi le repliche del PM Silvia Cecchi e dell'Avvocatura dello Stato E infine la decisione, la quarta in dieci anni, di durata della battaglia legale per restituire il Isippo all'Italia Tamponamento multiplo oggi in via Papiria a Fano Non ci sono stati feriti ma disagi alla circolazione Intorno alle 9 di questa mattina in via Papiria a Fano In un momento di alta densità di traffico si è verificato un tamponamento Che ha visto coinvolti tre veicoli che erano in coda lungo il canale Albani In prossimità del semaforo di via Francesco Palazzi Un Opel Zafira condotta da un trentenne di Fano Tra un arresto e una ripartenza ha tamponato un Apollo grigia, vecchio modello Condotta da un settantenne di Cartoceto Il quale per la spinta ricevuta ha urtato di striscio una terza vettura inconnata sulla sinistra Una jeep condotta da una donna fanese di 33 anni Nessuna conseguenza fisica per le tre persone a bordo dei mezzi coinvolti Solo danni alle auto che essendo dotate entrambe di impianto a gas Sono state messe in sicurezza da una squadra dei vigili del fuoco di Fano Intervenuta sul posto insieme ad una pattuglia dei carabinieri Che ha regolamentato il traffico in quell'ora così di punta Data la chiara dinamica dell'incidente e l'assenza di feriti I conducenti dei veicoli hanno proceduto alla compilazione della constatazione amichevole E c'è stato un incidente stradale anche poco più di un'ora prima Sempre di questa mattina intorno alle 7.50 in via Roma L'incrocio con via Togliatti Coinvolti un'auto ed un motorino 50 con due ragazzi a bordo Una golf condotta da un fanesi di 33 anni Uscito da via Togliatti nell'intento di girare a sinistra in direzione Monte Si è scontrata appunto con questo motorino Che procedeva in direzione mare E che stava superando a destra la fila di autoferme per lo stop di via dell'Abbazia Nell'urto i due giovani motorino Un ragazzo ed una ragazza che stava guidando Era entrambi di 17 anni Sono finiti a terra e sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Croce In codice giallo Sul posto una pattuglia della Polizia Locale Per i rilievi di legge E un'altra per regolare il traffico Che anche a quell'ora è sempre molto intenso Le scogliere Le scogliere in via del Bersaglio Sempre a Fano Lunedì arriva il motopuntone della Scimitar Con 4.000 tonnellate di roccia Dopo la pausa dettata dalla stagione balneare Come annunciato all'inizio dell'estate dall'amministrazione comunale Riprende lunedì 23 L'attività di manutenzione delle scogliere lungo la costa fanese In questa parte di intervento Verranno risagomate e rafforzate Quelle comprese nel tratto di mare tra via del Bersaglio E la focia del fiume Metauro Arriveranno dalla Croazia 4.000 tonnellate di pietra calcarea E altre 2.000 tonnellate Verranno riutilizzate Ripescando i blocchi mossi e scivolati sul fondale Per l'azione violenta delle mareggiate L'intervento globale è suddiviso in due lotti Il primo riguarda le 5 scogliere Comprese tra la foce e la baia Metauro Ad eseguire l'opera Del costo di 200.000 euro Di fondi regionali Una ditta già nota a Fano La Scimar di Chioggia Con il suo motopontone Mentre per il secondo stralcio Per cui arriveranno ulteriori 4.000 tonnellate di blocchi Dalla Croazia Riguarda le 6 scogliere Fino alla zona dei co-kart La cui ditta esecutrice però È ancora in via di assegnazione Sì, è una zona che tende da tempo Perché sono circa 30 anni Forse più che quelle scogliere sono lì E andavano manutenute Cioè andavano riposizionati i massi Che nel tempo sono caduti E andavano posti altri massi Per alzare il livello appunto delle scogliere E renderle più efficace contro la forza del mare Almeno sopra il livello medio marino Di circa un metro Di oltre un metro Quindi è un intervento importante A difesa del valore E anche del turismo di quella zona È un intervento che a breve Speriamo di poter concludere Quindi faremo fare un inverno tranquillo Anche alle persone che ci abitano E che hanno attività economiche In provincia di Macerata Un bimbo di 22 mesi È caduto in una piscina privata Piena d'acqua E coperta da un telo di plastica La nonna che lo aveva in custodia Lo ha trovato che galleggiava E ha chiamato il 118 Il piccolo è stato trasportato Con l'eliambulanza All'ospedale di Torette di Ancona Dove si trova in prognosi riservata Ed è in pericolo di vita La tragedia si è consumata Intorno alle 13 Appenna San Giovanni In Contrada Biordi Mentre era dentro l'abitazione Il bambino è uscito in giardino Ed è finito dentro la piscina Gli operatori del 118 Lo hanno trovato fuori dall'acqua E privo di segni vitali Sono riusciti a rianimarlo E intorno alle 14 E' stato trasferito Dall'elisoccorso ad Ancona Fano è città capofila Di un progetto di cooperazione Internazionale Del Ministero dello Sviluppo Economico Che gestirà 1.600.000 euro di fondi Per investimenti in Tunisia Nel settore biologico È la prima volta Che il Comune di Fano Si trova ad essere capofila Di un progetto di cooperazione internazionale Del Ministero degli Esteri Area Sviluppo Di 1.600.000 euro Frutto delle relazioni Tessute dal primo cittadino E della progettualità Del nuovo ufficio per l'Europa Di cui si è dotato il Comune Beh sì Sono molto orgoglioso E soprattutto perché Ne rivendico anche La paternità Grazie alle relazioni Grazie al ruolo Che sto svolgendo Come sindaco di Fano In tavoli nazionali E internazionali E quando si svolgono dei ruoli Poi arrivano anche risultati Per le proprie città Fano c'è Ha vinto Il suo progetto È stato uno dei progetti Riconosciuti E mi fa piacere Sottolineare Che assieme a Fano Gli altri progetti Sono capitanati Da città come Torino Bologna Reggio Emilia Regione Piemonte Regione Abruzzo Regione Umbria Quindi tutti soggetti Importanti Significa che Anche sotto questo aspetto Stiamo emergendo E stiamo sempre più crescendo Il paese destinatario Individuato dalla Commissione È la Tunisia Nell'ottica del sostegno A casa loro Che il Ministero Ha sviluppato Per le strategie A contrasto Dei flussi migratori Nell'area del Mediterraneo Del 1.600.000 euro Totali del progetto Di cui 1.300.000 Di fondi comunitari A Fano Arriveranno 352.000 euro Per sviluppare E gestire Nei 48 mesi Di durata Dell'operazione Tutto l'impianto Progettuale Che avrà Come perno centrale L'area agroalimentare E l'agricoltura Sostenibile In Tunisia Ci sono già fondamenta Impiantate Dalla CEFA La ONLUS Che da tempo Coopera Con il paese africano Sulle quali Basi sviluppare E coordinare L'apertura Di 10 nuove aziende E tessere Tutta una serie Di collaborazioni Bilaterali Tra aziende Tunisine E italiane Nei 48 mesi Per questo progetto Il comune di Fano Per la parte specifica Si avvalerà Della collaborazione Con la fondazione Cante di Montevecchio Già strutturata Per questo tipo Di interventi Quindi sono molto Contento Una bella soddisfazione Ma soprattutto Quello che mi piace Sottolineare Che Fano Cosa che in passato Raramente si è verificato Ha una capacità Di uscire dai propri confini E di essere Nei tavoli importanti Allora Fano TV Ha Su Facebook Un gruppo Che si chiama Reporter di strada E ci sono già Iscritte 1600 persone Quindi 1600 persone 1600 reporter di strada Che ogni giorno Segnalano Alla nostra redazione E quindi di conseguenza Anche al gruppo E quindi alla comunità Tutto quello che accade Nel nostro territorio Hanno segnalato Gli incidenti Di cui vi abbiamo parlato E spesso inviano E spesso inviano anche Fotografie Di degrado E quant'altro Questa sera abbiamo scelto Quelle che riguardano Una spiaggia Una spiaggia Dove Come è possibile Vedere Ci sono Abbandonati In uno stabilimento In uno stabilimento Balneare Un po' Di giochi Cose di plastica Tutte pinne per bambini Da mare Secchieli Insomma tutto lasciato Un po' Così All'abbandono Ecco Questa è una spiaggia Che si trova Tra Fano E Pesaro E questa è la segnalazione Che abbiamo preso Dal nostro gruppo E ve l'abbiamo Trasferita L'abbiamo trasferita In questo Nell'edizione Del telegiornale Di questa sera Continuate a segnalare E grazie Come sempre Ai nostri reporter Di strada Si sta lavorando Senza sosta Invece al progetto Della settimana Della settimana romana Dopo l'incontro Con sindaco e assessora Ora il tavolo Tecnico Elaborerà Il progetto Da presentare All'amministrazione Entro dieci giorni Allora Lucrelli L'attenzione Della città Si è risvegliata Sull'aspetto Della romanità C'è stato Un tavolo tecnico Con l'amministrazione Sindaco Assessore Voi avete avuto L'incarico Di progettare Questo evento Con Una Peculiarità Imprescindibile Ovvero sia La cultura E la qualità Vi state muovendo In questo ass Sì assolutamente Sì Nella città Ci sono una serie Di associazioni Che possono Veramente dirla loro In modo importante In questo ambiente Associazioni che Lavorano in tutta Italia Nei principali eventi storici Queste associazioni Sono tutte Intorno a un tavolo Per cercare di costruire Un progetto Che guardi Alla cultura A coinvolgimento Completo della città Ad attività popolari Richiamando magari Anche gruppi Che possono venire Da fuori d'Italia Per far regalare Un momento importante Alla città di Fano Che possa guardare Uno dei temi più importanti Della città Che è la romanità Quali sono I punti saldi Di questo progetto Che state elaborando Se si possono Elencare Ma sì Sicuramente Come ho detto Un'attenzione particolare Al pincio E quindi A trasformare questo In un In una fanum fortuna Quindi in una fanum romana E poi Tutto un palinsesto Di eventi Programmatici E è uscito Dal tavolo tecnico Anche la possibilità Da parte L'assessore Marchegiani Di ripartire Proprio alla grande Con la corsa Delle bighe Che noi È un momento Che vediamo Assolutamente interessante Che tutta la città Vuole Nel primo incontro Che è stato fatto Una cosa Emersa su tutte Che va benissimo Qualsiasi progetto Vogliamo fare Secondo noi Deve essere comunque Un progetto a lungo termine Uno che la città Possa vivere E non spezzare Come è successo Negli anni Così da lasciare Un po' Di amaro in bocca Anche ai fanesi Quindi un progetto A lungo termine Secondo noi È ciò che serve Alla città A Sant'Angelo In Vado Invece Si sta preparando Tutto per il terzo Weekend Dedicato alla 54esima Mostra nazionale Del tartufo Bianco pregiato Delle Marche Tanti volti noti Della televisione In arrivo Domenica alle 11 Si terrà la cerimonia Di consegna Del tartufo d'oro Che quest'anno Andrà tra gli altri All'industriale Luca Cordero Di Montezemolo Allo chef Gianfranco Vissani E all'attrice Carlotta Maggiorana 11 in totali Riconoscimenti Che toccheranno Il mondo Della politica Della medicina Della musica Oltre a personaggi Locali Che hanno dato lustro Alla cittadina Vadese Oltre ai premiati Tanti altri personaggi Sono attesi in platea Tra i quali Pamela Prati Maria Grazia Cucinotta Millie Carlucci E ormai un habitué Ovvero il direttore Del TG5 Clemente Mimun Per gli appassionati Di volatili Il prossimo fine settimana Alla bocciofila La combattente di Fano Torna la mostra Ornitologica Una passione per molti Un vero lavoro Per altri L'ornitologia È un vero mondo a sé Basta frequentare Una mostra a concorso Per rendersi conto Della vera passione Competenza E conoscenza Per questi pennuti Che i loro allevatori Hanno regalando Con il loro lavoro Agli amanti Degli uccelli Un universo Multicolore Musicale Alla bocciofila La combattente di Fano Visto il grande successo Di pubblico Della scorsa edizione Anche quest'anno Tornano sabato E domenica prossimi Centinaia di esemplari Alcuni anche Rarissimi E pregiatissimi Che faranno la gioia Dei visitatori E soprattutto Dei bambini Regalandogli Uno spettacolo Unico e raro In aumento In aumento anche La qualità E la qualità Degli allevatori E la qualità Dei soggetti esposti Perché facendo il gym Insomma Si vedono già Dei campioni Dei provetti campioni Quindi siamo Soddisfatti Gente da tutta Italia Più che da tutta Italia Soprattutto dalla regione Dalla regione limitrofi Dall'Umbria Dalla Romagna E quindi anche Dall'Abruzzo Comunque Gli esemplari Sono circa Mille esemplari Piano piano Questa mostra Sta crescendo Insomma Siete aperti a tutto Quando ci sarà Questa mostra Questa mostra Inizia Domani Sabato E poi Sabato pomeriggio Possono visitare Il pubblico E anche la domenica Tutta domenica E' stata rinviata Ad altra data La partita Alma Juventus Fano Modena Di Serie C Che si sarebbe dovuta Giocare domenica prossima Lo ha deciso In via eccezionale Il presidente Della Lega Pro Gabriele Gravina Alla luce Dello sciopero Indetto dai giocatori Del club Emiliano Supportati anche Dall'associazione Italiana Calciatori Per protestare Contro il mancato Pagamento Delle mensilità Da luglio A settembre E adesso Nella ormai grande famiglia Di telespettatori Di Fano TV Anche questa sera Andiamo a fare gli auguri Ad una coppia di sposi Eccola qua Nella fotografia Floriano Floriano e Laura Domani celebrano Le nozze di diamante 60 anni insieme Un augurio Da tutti i familiari Gli amici I parenti Naturalmente Anche da tutti noi Di Fano TV Dopo il telegiornale Box I protagonisti Di Fano Poi in cucina Con lo chef E uno speciale Ampi Noi ci fermiamo qui Domani mattina Alle 7.30 puntuali C'è la rassegna stampa Grazie per averci seguito Buona serata a tutti